Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Eccoci in diretta. Penultima puntata della stagione. E sono apparso io. Ma non sei ancora apparso. Non sono ancora apparso? Però adesso ci sono io. Ah va bene, va bene, scusi. Poi adesso quando apparirai te lo dico. Va bene, allora vado avanti. Allora, giovedì 14 giugno, 10.10, quindi siamo in diretta, lo 030 28 15 130 è a vostra disposizione per intervenire in diretta. Buongiorno a Daniele, buongiorno e buongiorno ad un amico che torna a trovarci, Maurizio Poli. Buongiorno a tutti, grazie Cristian, grazie, che introduzione. Splendido, di luce propria. Splendido, splendido, splendente, eccoci qua. Allora, salutiamo gli amici che ci seguono tramite Facebook. Sì, stanno già in diretta, siamo già in diretta, ormai siamo la diretta nella diretta. Nella diretta, nella diretta. Allora, abbiamo fatto una grande parentesi politica. Mamma mia. Soprattutto adesso nelle amministrative dove ha vinto del Bono, però anche prima, insomma, nella formazione del governo, la formazione del governo, eccetera, eccetera, dove abbiamo visto che quanto conti in realtà l'aspetto economico. Economico. Tant'è che il governo stava per non formarsi proprio per il nome del ministro dell'economia, perché poteva non piacere a qualcuno in Europa. Punto di domanda, esatto. Quindi io direi, caro Maurizio, dacci tu qualche informazione. Vada, partirei da un dato che, proprio per l'Europa, la Francia, l'Italia, che se ne parla in questo momento qua, che si sta parlando. Allora, i dati di ieri sono sulla natalità. Sì. Cioè, in Italia è il secondo paese al mondo più vecchio dopo il Giappone. Quindi, la natalità... Ah, prima c'è il Giappone. Prima c'è il Giappone, come anzianità e come demografia in prospettiva. Cosa significa tutta questa cosa qua? Significa che nascono molto meno bambini, molti meno bambini. Siamo scesi sotto i 500 mila bambini all'anno, dato dal 2017. Se lo confrontiamo con, invece, la nazione che è sulla bocca di tutti in questi giorni qua, la Francia. La Francia. La Francia. Avere un figlio in Francia è avere un figlio in Italia. In Italia, l'unica zona in Italia dove c'è un aumento di natalità, indovina qual è? La regione autonoma di Bolzano. Oh, beh, anche perché lì vogliamo dire che i problemi economici sono molto diversi da quelli che abbiamo nel resto d'Italia. È vero, ma c'è una cosa in più che fanno loro. Ti danno assistenza alla famiglia. Stessa cosa che fanno in Francia. In Francia una famiglia non pensa a un'assistenza, la mamma, il nucleo familiare, di qualsiasi nucleo familiare, porta il bambino fino alla fine delle elementari, senza nessuna spesa da parte della famiglia o con dei fortissimi contributi alla famiglia, in numeri, in soldi. Quindi anche la famiglia non è che vive di voucher, come qualche tempo fa, ha dato il voucher una tantum di 200, 300, 500, una sorta di mancetta, insomma. Di mancetta elettorale che ti viene data, eccetera. C'è una prospettiva, un progetto di vita completamente diverso. Quindi nel ciclo di vita, cioè quando parte la vita, quindi quando parte il nucleo familiare, c'è l'assistenza. Quindi le famiglie sanno che possono contare su questa cosa. Quindi la prospettiva di non avere un figlio, uno virgola è qualche cosa da noi in Francia, è due virgola qualche cosa. Quindi è completamente opposta la situazione. Ma perché Maurizio ci fai questo discorso? Cosa c'entra con l'economia, i figli? Cosa c'entra questa cosa qui? Natalità vecchiaia. Quanti soldi lo Stato deve investire in prospettiva per una popolazione che adesso ha 700 mila novantenni in Italia, mal contati o giustamente contati? Anche perché poi questo discorso si allaccia a quello che stiamo vivendo dei migranti. Certo. Perché proprio Saviano qualche giorno fa ne diceva, contrapposto ovviamente alla politica che sta facendo Salvini, la ricchezza che potrebbero portare, che portano sostanzialmente i migranti con il loro lavoro. Perché noi stiamo invecchiando sempre di più. In Italia ci sono circa 5 milioni di migranti ufficialmente in anagrafe. La cosa strana che anche nel 2016 e 2017 la tendenza anche delle famiglie di migranti che sono stabili qui, che hanno un lavoro, che producono ricchezza, hanno diminuito anche loro le nascite, che erano quelli che coprivano questo gap. Anche questo dato è preoccupante. Stavo dicendo che ci sono 700 mila anziani adesso. In prospettiva da qui a 20-25 anni ci saranno 2 milioni e mezzo di anziani oltre i 90 anni in Italia. Quindi i soldi che lo Stato dovrà pensare, stiamo parlando non di politica ma di demografia. Uno che deve guardare un pochino più in là, la politica dovrebbe avere non lo sguardo sulla punta delle scatte, ma dovrebbe essere lungimirante. Appena lungimirante per dire, benissimo, le risorse sono queste, dove le metto? L'aspetto dello stato sociale che c'è adesso, in questo momento, pensiamo a una famiglia adesso, gli anziani vengono assistiti ancora in casa, molti, molti, perché le rette delle case di riposo sono troppo alte, Cristian. È vero, e questo è un altro grosso problema. Benissimo, questa cosa si andrà ancora peggiorando, andando avanti, perché gli anziani aumenteranno, ma aumenteranno anche gli anziani non autosufficienti, cioè quelli che non riescono a prendersi cura di se stessi facendo le operazioni normali, cioè vestirsi, lavarsi, potrei andare avanti, però sono le cose che noi facciamo quotidianamente senza neanche pensarci, ma dopo una certa età queste sono oggetto di inabilità. Quindi la popolazione che sta invecchiando e non produce, non produce reddito, quindi il famoso PIL che sentiamo parlare non viene, il reddito non c'è, anzi deve essere stanziato. I giovani che ci sono, l'abbiamo fatto più volte di questo discorso con te, i giovani che dicono aspetta aspetta un attimo, dove è che vado io? Vado via. Rimango in Italia? No. E non produco reddito qua in Italia che servirà quindi rimaniamo sempre col tema, l'eccellenza delle nostre scuole ma il lavoro che viene dato all'estero. Vanno via, le migliorimenti se ne vanno, quindi una politica che deve tenere presente la base della famiglia quando nasce per dargli l'opportunità alla famiglia di poter svilupparsi e dire va bene ci sto qua, mi faccio la casa, faccio un prestito, trovo un lavoro, le scuole qua che se ne dica molti usufruiscono delle università italiane che sono buone in classifica, anche mondiale e dopo l'ingegnere che si laurea o il fisico o il matematico o l'esperto in tecnologia IT rimane qua perché il problema più grande che hanno adesso le aziende qui del territorio bresciano, se vediamo i dati di ieri, sono un po' infervorato scusami, ma i dati di ieri dell'export in Italia e soprattutto della provincia di Brescia è esploso il fatturato, le aziende. Stiamo esportando tanto, non siamo tornati ai livelli di precrisi, però ci stiamo avvicinando a larghi passi. Tra l'altro andando, io vedo ancora delle aziende che stanno chiudendo, perché andando verso la bassa bresciana, vedevo ieri, andando verso Trenzano, che c'è una grossa azienda dove stanno manifestando da giorni dipendenti. Gli americani di Medtronic se ne vanno, perché decidono da un momento all'altro di andarsene. Adesso il governo attuale sta ragionando sul discorso, se delocalizzi non ti do gli aiuti, che può essere anche una politica non sbagliata. Che la fanno anche altri paesi. Va dosata, adesso io non voglio entrare nel tecnicismo perché non è, però come idea non è sbagliata. Sono contrario al discorso personalmente dei dazzi, perché a noi, a noi, come Italia e a noi come provincia dal punto di vista agricoltura ci potrebbe danneggiare pesantemente. Così come ci ha danneggiato il suo tempo, non i dazzi. La Russia. Miliardi di euro, bravo. Miliardi, miliardi di euro e posti di lavoro a catena, perché sono tutti collegati. Certo. Da chi prepara in pacchetta, da chi fattura. Ma anche il famoso grana padano, mi ricordo che mi dicevi, no? Bravo, bravo. Nonostante la produzione di grana padano l'anno scorso sia ottima. Certo. Ottima. Ed è un prodotto eccezionale dal punto di vista di richiestissimo da persone che sono disposte a spendere per avere questo prodotto italiano. Se questi mi mettono i dazzi gli americani, non posso vendere in Russia, non posso vendere dall'altra parte, ce lo dobbiamo mangiare tutto noi questo grana padano alla fine, che a me piace, a te piace, però la nostra capacità di spesa è limitata. Esatto. Molto limitata. Molto limitata. Tornando a noi, quindi il problema demografico è fondamentale. Una riflessione che deve fare una persona è di proteggere, noi parliamo, noi siamo educatori finanziari e diamo un suggerimento sempre alle persone di poter proteggere. Prima di tutto devi proteggere la tua persona e poi la tua famiglia, perché se viene a mancare tu che porti reddito, non proteggi la tua famiglia. Certo. Quindi ci sono delle azioni che si possono fare, ci sono degli strumenti finanziari, sì. Ne parliamo a volte, ma è sgradevole? No, non è sgradevole. È aiutare le persone a riflettere. Ad esempio ci sono delle policy che si chiamano long term care, che costano poco, che prevedono che quando tu non sei più in grado di poter aiutarti e c'hai una pensione che sappiamo tutti. Che è la minima, sono 505 euro. Bravo. E che in prospettiva, nonostante quota 100, tutte le modifiche che andremo a fare va bene, ma sarà sempre più bassa perché non sarà più a livello, è a livello contributivo, non di reddito. Certo. Quindi andrà per forza essere delle pensioni che si stabilizzeranno se andrà bene quelli sui 1000 euro, 1100. Se devi pagare una persona che ti aiuta, non mangi più, non paghi niente. No, anche perché se devi andare a pagare lo stipendio. Se hai una copertura assicurativa come queste pollizze qui che ti permettono di avere, diceva bene, io verso 200 euro all'anno, dico una cifra, Christian, 200, 300, sono queste le cifre, per avere, quando io non riesco più a lacciarmi le scarpe, non riesco più a lavarmi, queste sono le... è scendere dal letto. Scusami se parlo di queste cose qua, Christian. No, ma è così, anzi. C'è una pollizia che mi integra la mia pensione con un 1000 e altri 1000 euro, quindi avere, facciamo dei numeri, 2000 euro, che non sono delle cifre, però con quelli posso pagare, contribuire a pagare una persona che viene a trovarmi. Pensarci prima io, dopo lo Stato farà qualche cosa. Spero che nelle politiche, dal punto di vista, anche in prospettiva, perché la demografia non è politica, sono dati oggettivi. È un paese che sta invecchiando rapidamente, è un paese che senza i giovani se ne vanno, quindi esco dalla porta, lo vedo. Stavo dicendo prima, le imprese qui del territorio export tantissimo, fatturato tantissimo, ma cercano che cosa? Ingegneri, cercano esperti informatici, cercano gente che sappia queste cose, non ci sono. Ci sono aziende che sarebbero disposte ad assumere e cercano come il pane queste figure, il territorio non riescono a darle. Sono ancora sui banchi nell'università, non stanno neanche ancora pensando la tesi che le aziende li stanno già inquadrando. Li stanno già cercando, sì. Quindi, la prospettiva di investire... E qui torniamo al discorso che questi soldi, cioè questi giovani che potrebbero rendere per il nostro paese, lo potrebbero far crescere, perché comunque le scuole sono di un'alta eccellenza, ce lo siamo già detti tante volte, vanno all'estero perché all'estero hanno un futuro e il 90% di questi giovani non torneranno più in Italia, perché all'estero non si sta così male. No, torniamo ai bambini, c'è questa signora qui, laureata in chimica, qua faceva l'assistente in università, prendeva 1200 rotti euro, 1250 a Milano, a Milano, e aveva la... succede spesso, lei e la figlia, problemi dal punto di vista familiare, quindi nucleo lei e la figlia, non vivi a Milano con 1250 euro ricercatrice. Direi proprio di no. Non paghi neanche quasi la metropolitana, scusami. No, no, è così. Metropolitana, a Bollamento, ti van via 300 euro, e non sono finiti. L'asilo ti van via 500 euro, dove sono finiti, cosa mangio? Non pensiamo di poter pagare un affitto di casa. No, 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 a Milano. A Milano. Comodo magari vicino al centro di ricerca, non ci pensare neanche. Cosa è successo, lei, ricerca internazionale, Olanda, paesino vicino a Olanda, paesino, nucleo abitativo importante, azienda che ha guardato il suo curriculum, dice ci interessa la sua figura, benissimo, lo stipendio è 3.000 euro, casa loro, asilo che con servizi, cioè metropolitana, senza la macchina, tutto gestito dal punto di vista delle infrastrutture molto importanti, molto importanti. Lo vediamo solamente qua a Brescia, la metropolitana tanto, quante migliaia, migliaia di persone stanno... Un'infrastruttura importante, sempre nella logica della politica che non deve avere solo all'oggi, ma di quello che sarà... Investire, lì è la politica, lì è il gioco della politica, fare dei debiti, perché attenzione, facci i debiti, il debito non è satana, il debito visto in funzione di un'azienda o visto in funzione della politica è un progetto, allora è sano quel debito lì, perché dà sviluppo a quel territorio. Tornando alla nostra ricercatrice, Olanda, lì 3.000 euro, gli hanno dato l'appartamento e l'asilo era distante 5-6 km, con la metropolitana raggiungeva tutto, diceva c'è un unico problema che la bambina, ti faccio ridere, esce alle 16, non c'è problema, rivediamo il contratto, accorciamo, lo facciamo più elastico, lei recupera, qui insomma, hanno fatto un gioco... C'è la disponibilità da parte dell'azienda a dire benissimo, in più, è così lei, tornerà in Italia secondo te questa figura qua? Ma assolutamente no! Secondo te questa qui? Ma ci sono anche tanti ragazzi che non vanno a fare chissà che cosa, vanno a fare... I lavapiatti! I lavapiatti, ma anche questi ragazzi che poi troveranno magari un'altra collocazione non tornano e non torneranno in Italia, ma c'è anche da dire che fanno anche bene, è brutto da dirsi ma è così, perché l'Italia non sa dare, la politica italiana non sa dare delle risposte. Non ha dato delle risposte che possono affascinare una persona a rimanere. Anche perché un giovane oggi, se ha la fortuna, se ha la fortuna di trovare un lavoro, ha messo in un concesso poi che glielo paghino, prende 300-500 euro al mese. Stiamo parlando che... E quindi altro che crearti famiglia. Non te la crei, con 5 euro all'ora non c'è neanche un salario minimo previsto di dire benissimo, uno studente vuol fare, c'è uno salario minimo di 9,50 euro all'ora, 10 euro, fai finta 9,50 euro, 10 euro l'ora, che è proprio il salario minimo che non è previsto da nessuna parte. Quindi anche le prospettive politiche di vedere questo aspetto qui, personalmente, più che l'integrazione al reddito, chiamalo reddito di cittadinanza, chiamalo come vuoi, più che quello vedere di dare delle sicurezze alle persone, di dire che c'è questo aspetto qui, e poi orientare, orientare, dare dei segnali dicendo guarda va benissimo che tu vuoi fare questo aspetto qui, ma il mercato chiederà queste figure in prospettiva. È vero che i ragazzi che andranno a scuola ad essere elementari, tra dieci anni faranno lavori che non esistono? Sicuramente, gli smartphone ci insegnano che... Non è usare lo smartphone, ma è progettare quello che c'è dentro qua dentro. Noi qua a Brescia abbiamo... Abbiamo anche delle eccellenze qua a Brescia. Per esempio c'è il dottor Russo che aveva creato un'app che gli è stato riconosciuto un milione di euro, che è un bravissimo oculista, per vedere il fondo dell'occhio tramite l'app. E questo, esportando diciamo questa idea nelle zone in via di sviluppo, dove ancora magari non ci sono i sistemi medici che abbiamo noi, è una cosa innovativa, importante. Qui c'è un campus a Brescia, famoso nella zona industriale, dove ci sono dei cerbiati fuori, proprio un campus, si chiama Super Partes, invito ad andare a vederlo solo dall'esterno e lì c'è un nucleo di start-up e ci sono un nucleo di aziende che ha fatto sorgere questo campus dove sono parecchi giovani che danno vita ad economia, danno vita ad idee. Poi dopo apri internet, vai sulla pagina dell'ANSA e leggi, caporalato, immigrati a pane e acqua, due arrestati in Sicilia, queste persone lavoravano per 3 euro all'ora nelle campagne di Marsala e di Mazzana del Vallo. 3 euro sono pochi. Ricevevano pane duro a pranzo e a cena, venivano sfruttati anche per 12 ore al giorno e quando è quanto sono stati costretti a subire diversi lavoratori immigrati, clandestini e regolari, reclutati da due agricoltori di Marsala, padre e figlio. I due sono finiti i domiciliari, però c'era anche un aspetto, sono state belle intercettazioni a scoprire tutto ciò. Loro si facevano chiamare padrone e gli immigrati, ridotti praticamente in schiavitù, avevano assegnati i nomi del giorno della settimana, come il venerdì di Robinson Crusoe, il romanzo del Settecento, dall'indagine è emersa che i lavoratori si rivolgevano ai due uomini chiamandoli padrone e questi a loro volta li chiamavano i nomi della settimana, giovedì era il nome assegnato a uno degli uomini sfruttati. Gli immigrati venivano prelevati da un capannone nelle campagne di Marsala, dove vivevano in pessime condizioni igieniche e sanitarie o erano reclutati direttamente nei centri di accoglienza per i migranti. Cioè questo per dare l'altro aspetto della nostra Italia e quando si dice che i migranti vengono qui per stare negli alberghi a 5 stelle, forse forse attenzione, perché è un messaggio che viene dato dai mass media a livello nazionale, ma se scappano dai loro posti non stanno proprio così tanto bene. C'è una cosa che stanno facendo ad esempio in Europa, che ad esempio l'amica Francia, lei ha respinto sì 10.000, lei doveva accogliere l'anno scorso di questi migranti, secondo gli accordi europei, circa 7.000 e rotti, 7.500, ne ha presi 600. Ma cosa è che fanno loro? Scelgono. In questo momento la Francia e la Germania hanno accolto siriani ed eritrei. Ah perché vanno a scegliere esattamente il curriculum adatto. Bravo. La Germania, la signora Merkel, la signora Merkel, ha fatto arrivare i siriani, ma lì dentro dici siriano. Ah no, cioè chimici, laureati, matematici, ingegneri, le aziende tedesche gli hanno detto benissimo adesso ti facciamo fare un corso in tedesco, ti diamo l'abitazione, eccetera. Tutto il discorso automotive, tutto il discorso delle varie case automobilistiche tedesche senza fare nomi, hanno bisogno di questa e hanno scelto. Non posso scegliere, sì devo rendere attrattivo, devo rendere attrattivo, devo fare delle formazioni, perché non posso formarli, perché non posso fargli le lezioni di italiano e poi fargli fare dei corsi di avviamento professionale, gli sto dicendo le stupidate, lo so. No, no, ma è così. Dice benissimo, è diventato un bravissimo giardiniere, è diventato un bravissimo cuoco, è diventato un bravissimo cameriere. Cavolo, perché non posso sfruttare aperte e chiuse virgolette queste opportunità? La popolazione sta invecchiando, che uno la pensi politicamente in una maniera o in un'altra, questo dal punto di vista economico sta succedendo e succederà, non perché l'ha detto il Maurizio qui presente, ma perché, lo dicono persone molto più importanti di me dal punto di vista economisti e dal punto di vista demagrofie, cioè cosa sta succedendo? Le nascite, le morti, anziani, meno figli, punto. Meno figli, più anziani. La sanità, prima o poi, mi crolla da questo punto di vista. Quanti soldi devo spendere in più rispetto a per un anziano che per un ragazzino? No, anche perché poi entriamo nel nodo della sanità dove siamo arrivati già al punto dove o hai un sussidio o un'assicurazione economica, altrimenti rimani in braga di te. Benissimo. Dopo la pubblicità sarà ancora contributi economici per la... Maurizio Poli, educatore finanziario, stiamo parlando di economia a 360 gradi, ma in maniera particolare adesso entriamo nel turbinio della finanza delle famiglie. Famiglie. Perché Maurizio Poli è diventato il responsabile, quindi educatore finanziario, responsabile della Lombardia, IF. IF, IF Pro, professionisti. 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 E mi ha anche detto un'altra cosa, che spero di dire giusto. Certo. Adesso andiamo a parlare di quella che è l'esperienza della cittadinanza, corner nel risparmio. Corner del risparmio, bravissimo Cristian. L'ho letta come fosse un pappagallo, adesso tu andrai a spiegarci bene che cosa è, perché purtroppo, o per fortuna, il tema del risparmio è un tema fondamentale, anche poco, ma ci deve essere sempre. Nel ciclo di vita di una persona il risparmio, come l'investimento, fa parte delle prospettive di un nucleo familiare o anche di un singolo, di una persona. Quindi il risparmio è importantissimo e va capito. Va, i termini che vengono usati devono essere semplici e le persone devono essere informati. ecco perché, oltre che essere iscritti all'albo dei consulenti finanziari, certificati, EFA, eccetera, io e Giusy Biondelli siamo iscritti all'albo degli educatori finanziari AIF, Assozione Italiana Educatori Finanziari, che c'è un registro pubblico presso il MIUR, e il MISE, dove se uno digita AIF.eu, cerca Polio Maurizio, educatore finanziario. Cosa significa? Significa anche fare educazione finanziaria nelle scuole, per comunicare ai ragazzi là dove si stanno formando e in maniera semplice cominciare a parlare anche del discorso delle disponibilità economiche e di come affrontare, come prospetticamente, valutare. Dice, faccio partire una start-up, benissimo, ma se non sei tu stesso una start-up e non ti sei allenato con le tue finanze, poche o tante che siano, anche se sei giovane, non hai la mente per anche questo aspetto qua e capire, magari non te ne occuperai direttamente e assumerai uno che ti terrà i conti, ma tu devi sapere quello che ti terrà i conti, cosa sta facendo e controllare quello che sta facendo. Come dire, devi sapere che il conto corrente aziendale non è il tuo conto corrente personale per fare le spese, devi sapere investire, perché se non investi rimarrai indietro in confronto agli altri, quindi quelle anche cose di base che servono. Che servono. Allora, come educatore finanziario AIF, AIF Professionisti, che è nata recentemente, sono stato nominato responsabile per la Lombardia per quanto riguarda le iniziative dal punto di vista culturale e nell'educazione finanziaria con AIF Pro, quindi sono molto contento di questa cosa qui e l'iniziativa volontaria, perché è gratuita gli incontri che facciamo e il nostro tempo che mettiamo a disposizione. Abbiamo fatto un piccolo intervento nella città ad esempio di Cremona, dove abbiamo in collaborazione con il settimanale Mondo Padano, dove ho l'ufficio e la giudice l'ha anche qua a Brescia, ma l'abbiamo sia a Brescia che a Cremona, a Cremona abbiamo la nostra cosiddetta base operativa, ma in collaborazione con Mondo Padano, Università Popolare di Cremona, che ci ha messo a disposizione gli spazi dove poter raccogliere le persone e dove abbiamo fatto dei corsi di educazione finanziaria in collaborazione con loro, ogni giovedì durante l'arco della vita scolastica dell'Università Popolare, cioè da ottobre a giugno, abbiamo chiuso il giovedì scorso, ogni giovedì ci facevamo trovare su appuntamento ma anche libero, potevamo venire là meglio su appuntamento ma anche liberamente, dalle 17.30, alle 19.30, due ore in cui uno poteva parlarci di quello che riguardava il suo nucleo familiare, la sua piccola impresa. Credo che ci sia sempre più voglia e più interesse di capire, va benissimo avere il professionista di riferimento, quindi il commercialista, il ragioniere eccetera, però il cittadino oggi, il cittadino, l'imprenditore in base alla propria professione vuole essere più informato nel senso che non vuole essere fregato e quindi per non essere fregato bisogna conoscere, quindi voi date questo, la conoscenza del, oltre all'assistenza quello che può essere, però la conoscenza del campo economico. Ecco, noi non vogliamo che le persone portino i propri risparmi nel campo dei miracoli di Pinocchio e il gatto e la volpe ti dicono, semina qua i tuoi soldini che nascerà l'albero dei soldi, perché il gatto e la volpe mangia fuoco, purtroppo per parlare in questi termini qua, sono in giro ancora e trupinano anche le persone che non conoscono. Si dice ma l'educazione? No, 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 riescono anche a trupinare gente che ha lauree e quant'altro. Quindi dal punto di vista italiano la conoscenza dell'educazione finanziaria, in termini finanziari è molto bassa a livello, anzi siamo tra gli ultimi solo in Europa, facendo solo l'Europa. Quindi il progetto del corno del risparmio poi è stato inserito nel sito che si chiama Quello che conta, che è un progetto nazionale voluto per diffondere la cultura di educazione finanziaria, questo piccolo progetto, una goccia nell'acqua, non è che abbiamo salvato o stiamo salvando il mondo, però questa cosa per dare un piccolo segnale, una piccola disponibilità all'ascolto delle persone nella tematica del risparmio, degli investimenti, tutto quello che riguarda il denaro. Il progetto d'estate continuerà presso i nostri uffici a Cremona sempre il giovedì, le 17.30 alle 19.30, dopo darò i riferimenti per chi volesse ancora, è aperto però non più nell'università perché è chiusa fisicamente e anzi domenica c'è la festa con la consegna dei diplomi e continuerà in questo aspetto. Cosa abbiamo fatto durante l'anno? Abbiamo fatto anche degli incontri tematici, tre importanti, uno è stato fatto nell'ambito arte e finanza, abbiamo parlato perché l'arte è importante in un territorio, vediamo qua Brescia, l'apertura della Pinacoteca, tutto quello che può dare Brescia. Stai avendo un indotto economico molto importante. Un indotto economico molto importante, è bravo, arte e finanza ma anche investire in finanza, quindi abbiamo fatto un convegno su questo tema, abbiamo fatto un convegno export manager, dice ma abbiamo parlato adesso di export, ma ci sono tante piccole aziende che fatturano, ma non hanno fisicamente il responsabile, non possono permetterlo subito di poter assumere Christian che è un esperto manager, ma il Christian Cristelli, usando questa termine inglese in outsourcing, cioè in affitto, aperte e chiuso virgolette, su progetto, quello sì, piccole aziende che si possono mettere in rete e affidano i prodotti a Christian che li vende nel mercato asiatico, adesso sto dicendo quindi un convegno con i commercialisti. che non è proprio buttata là, perché il mercato asiatico ha un suo bel perché. Bravissimo, questo aspetto qui dell'export manager, soprattutto per un nostro territorio, per le piccole e medie imprese, mi sembra una tematica che ha riscosso molto successo e della sala era piena. Poi, ultimo, abbiamo… Ecco, vedi, questo è stato importante, la sala era piena. Era per me, dici 50 persone, lo so, io siamo piccolini, noi non siamo… No, ho capito, ma mi è capitato più di una volta di andare a convegni di altri argomenti, di altri campi, dove 7, 8, 10 persone. No, abbiamo 50 persone. Il fatto di avere 50 persone ad ascoltare un tema che non stiamo parlando di una commedia, stiamo parlando di un qualcosa di impegnativo, è un segnale forte, la gente vuole essere informata. Non vuole essere informata, abbiamo coinvolto l'associazione Piccole Imprese di Cremona, che ci ha portato un'azienda, un case history, di un'azienda che era sul rischio di chiusura, che faceva particolari, molto importanti dal punto di vista tecnologico, che era con commissariata, sì, ma è stata tenuta in piedi, non è stato perso un posto di lavoro e anzi le vendite all'estero sono aumentate e anzi è per quello che sta in piedi e i commissari riconsegneranno l'azienda risanata proprio per l'export, una bellissima esperienza, in collaborazione con i commercialisti, con l'Università Popolare, Mondo Padano e noi di Your Solution. e abbiamo portato un'azienda piccola che fa quello, cioè ti dà l'export energy in affitto, si chiama Vepa, piccolina anche lei, ma molto attiva sul territorio qui di Brescia e zone limitrofe. Un altro convegno che abbiamo fatto in collaborazione con... Che dopo voglio arrivare anche ai fondi di assicurazione, tornare al discorso che facevamo prima sulla sanità. Ci arrivo, sulla sanità ci arrivo perché è un tema... Ci serviamo tempo, se tu hai tempo, io ho tempo. Abbiamo tempo? Abbiamo tempo quello che vuoi. Andiamo a pentuolo, andiamo avanti. Avanti. Allora, torniamo all'altro convegno che abbiamo fatto al discorso in collaborazione con invece i consulenti del lavoro. Sì. Abbiamo parlato di welfare aziendale, Maurizio come parla è difficile, welfare aziendale è rivolto alle aziende. Devi guardare là. Sì, sto guardando anche i ragazzi di Facebook, ciao, sto guardando anche là, sono un ragazzo così. E welfare aziendale rivolto alle aziende, cioè io voglio premiare i miei collaboratori, c'è una defiscalizzazione fino a 4.000 euro, che non è poco. Che non è poco, defiscalizzazione. Quindi un messaggio di cultura, non possiamo dei tutologi, noi ci occupiamo della parte delle polizze, dei soldi, dei fondi pensione e quant'altro. In collaborazione, crediamo molto nella rete e nella collaborazione, uno studio commercialista di Milano e uno studio avvocati di Tanca e Lettieri che conosco, molto bravi nel settore gius lavorista, che ci hanno spiegato come la cultura del welfare sia molto importante per tenerti le persone brave. Il Christian me lo tengo. Come me lo tengo? Con un premio. Ma come glielo do il premio? Se glielo do in busta paga, la tassazione paga l'azienda, paga Christian. Con il welfare aziendale te lo brutalizzo, costo per l'azienda, defiscalizzato per Christian. È un buono, un voucher che dice, benissimo, quest'anno i miei 500 euro che ho preso di premio, 250 li dai alla libreria dove mio figlio ha comprato i libri, quello che va alle medie, invece per quello piccolino mi paghi l'asilo. Quindi non tiro fuori di tasca io. Perché sono già spese importanti, perché le famiglie di oggi hanno il problema dei libri, i problemi dell'asilo, il problema di fare la spesa. Bravo, io ti ho fatto due esempi riallacciandoci al discorso che facevamo prima. Dopo, vabbè, può essere speso in tanti modi il welfare aziendale, cioè può essere speso, non so, anche nella palestra, sono un single, non mi interessa, voglio fare questo. C'è la possibilità di mettere il cosiddetto piano welfare per le piccole. Noi ci rivolgiamo alle piccole aziende, perché quelle grandi sono già assistite dalle associazioni di categoria, ma le medio-piccole non ne hanno conoscenza per medio-piccole. Intendo anche aziende che hanno 20-30 collaboratori, a cui imprenditori illuminati vogliono riconoscere al collaboratore un premio. Viene fatto, esteso un piano dallo studio degli avvocati e dicono benissimo, questo, se raggiungo questo fatturato, se raggiungo questa redditività, benissimo, io metto a disposizione questi soldi che verranno poi ridistribuiti. Quindi c'è un impegno, c'è la capacità di tenersi le persone brave, perché mi trovo bene in quell'azienda, c'è un bel clima e sto bene in quell'azienda, è difficile che un'altra mi corteggi e mi porti via. Questo è il welfare aziendale. Quindi abbiamo fatto questi tre convegni su queste tre tematiche, che secondo noi in questo momento andavano molto calate. prospettive, dici, cosa farete, poi adesso ha le riprese a settembre, eccetera. L'Italia è un brutto cosa, si ferma dopo le scuole, aggiungi, sembra che sia finito il mondo. Noi praticamente, politicamente parlando e quindi anche a livello economico, finite le scuole fino a settembre, sostanzialmente. Ci sentiamo a settembre, è una parola che odio tantissimo. Galleggiamo. 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 Ci sentiamo, no, ci sentiamo. Però i problemi degli italiani ci sono, non vanno in vacanza. Ci sono a fine giugno, a luglio, a agosto e quindi sono anche problemi importanti perché soprattutto nei momenti dove tanti vanno in ferie ci sono molti cittadini che si sentono completamente abbandonati a loro stessi. Il tema che prima abbiamo toccato, quello delle assicurazioni sulla sanità, è un argomento che abbiamo inserito da poco perché eravamo sempre abituati che il nostro sistema nazionale potesse, non dico che andasse a coprire tutto, ma soprattutto per la parte delle persone più indigenti, potesse far fronte a tutto ciò. Adesso noi vediamo una situazione che gli ospedali ti chiedono se tu possiedi un'assicurazione. Se possiedi un'assicurazione puoi fare un determinato intervento in breve termine, altrimenti i tempi sono di un anno e mezzo, un anno, un anno e mezzo. E quindi vuoi o non vuoi ti trovi quasi costretto, come in America, ad avere un'assicurazione. Sì, la cosa interessante dell'assicurazione è stata fatta appena adesso un convegno a Roma sulla sanità, recentissimo, settimana ascolto, i dati sono freschissimi. È vero, la quarta gamba, cioè pensare di dover rinunciare magari a fare le ferie a posto di fare quindi tre settimane, la faccio di due e quel reddito che mettevo nella vacanza lo progetto per una polizia sanitaria. Se la mia azienda nel piano welfare decide che c'è questo bonus che ho preso, io posso decidere di dire benissimo versami questa tua azienda, mi fai il bonifico su questa compagnia assicurativa, mi faccio una polizia. Però dall'altra parte un italiano dice con tutti i soldi di tasse che paghiamo è assurdo pagare anche un'altra polizza. È vero. Allora facciamo come sistema americano dove tu, Stato, ci lasci il lordo del nostro stipendio che esattamente sarebbe il doppio, più o meno, poco poco là, e io, cittadino, sono libero di pagare l'assistenza sanitaria che voglio. La cosa che ti devo dire Cristian però è che io non posso come famiglia, come imprese eccetera, dipendere totalmente da decisioni politiche che magari mi cambiano tra tre anni, tra due mesi, basta il governo che sa, cioè devo usare la cassetta degli strumenti che ho adesso per la mia vita futura. Cioè è vero quello che dici tu, dal punto di vista politico, di economia politica, quello che dici tu è giusto. la spesa pubblica è per la sanità è rilevantissima qua in Italia, tant'è che adesso c'è lo stop alla migrazione dal sud al nord, scusami se è così, per curarsi, perché dopo la regione Puglia doveva pagare la regione Lombardia e quindi quelle sono in deficit. una siringa, prendevano una siringa, cosa costava al sud e cosa costava al nord, c'è un gap enorme, tanto per fare il gap. Esatto, noi vediamo da anni, da sempre, cioè ci sono dieci anni che non lavoro più nel campo degli alberghi ma già dieci anni fa ci sono strutture alberghiere qua a Brescia che vivono grazie esclusivamente al turismo degli ospedali, perché hanno parenti che vengono operati o l'ospedale civile piuttosto che la poliambulanza o al Sant'Anne, insomma tutte le nostre strutture che sono ancora un'eccellenza e però c'è di fatto un turismo di questo tipo. Abbiamo una telefonata. Una telefonata. Ponto. Pronto, buongiorno Cristian. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a Fizionado. Oh, meno male, ci sei te, ci guardi. Una telefonata. Sì, io mi guardo sempre, anche se non telefono tante volte, però mi guardo. Bravi, faccio sempre. Buongiorno a lei. Bravo, mi fa piacere. Ascolta, niente, visto che ha parlato di sanità così, sai che noi ci vediamo due anni avanti agli altri e noi abbiamo, io abbiamo dei vicini, dei conoscenti siciliani che sono venuti abitati a Bergamo e questi poveri genitori hanno muoci un figlio che li ha tirato sotto con la macchina, si l'ha fidanzato così 18 anni e stiamo così. Loro hanno altri figli ancora in Sicilia e nel parlare di settimana questa con loro così ha detto che loro vorrebbero ritornare in Sicilia ma diventa un problema, nel senso che sua figlia adesso che è incinta in questi mesi di giugno doveva partorire, deve partorire e gli ospedali hanno avvisato di portare le lenzuola e il kit per l'obbellico del bambino perché loro non sono provisti più di lenzuola così. Purtroppo è una Sicilia in cui si lascia il 100% delle tasse e poi si danno anche i più soldi, non hanno più i soldi per seguire la sanità, lei mi ha detto io non torno più a Sicilia, io rimango qua a Bergamo, ci sto da Dio, ci mancherebbe anche ritornare a fare cosa, oltre che a pagare, mi devo portare anche la mia casa, qui mi trovo in mente 25 anni fa quando si andava a Cuba e ci si meravigliava che negli ospedali i pazienti dovevano portare il lenzuola e la casa, ma succede la stessa cosa, che a Cuba stanno migliorando, non stiamo regredendo. Tra l'altro a Cuba hanno un ospedale di tutta eccellenza, perché io con mia sorella che era stata poco bene, io me lo ricordo perché sono stato all'ospedale di Cuba e sia a Cuba perché Santo Domingo hanno due ospedali da fare in vidi ai nostri. Sì, loro stanno migliorando e noi stiamo regredendo, come dicevo altre volte, io devo fare una visita adesso, come essendo malato cronico, ti ammigiano loro, meno male che la regione Lombardia prendono appuntamenti loro, però quando ha tutto da definire, perché hanno dei problemi di collegamenti, così va bene, ma dico, tutti i ragazzi e le persone del meridione che vengono a curarsi qua, ma cosa cosa succede poi? 60 milioni di italiani vengono in tutti i Lombardia, Piemonte, Lennatopurazzi. Allora, quello che dice è vero. Grazie Thomas. Vediamo gli ospedali al sud, li facciamo tutti qua, ingrandiamo questi, così i soldi che vanno al sud ritornano qua da noi. Grazie Thomas. Grazie Thomas, grazie, grazie. Però ricordiamo anche che queste persone che vengono al nord Italia hanno dei disagi importanti e dei costi importantissimi, perché non è che gli alberghi li vengano regalati, perché ve lo dico io, ho lavorato per tanti anni in questi alberghi e non ti regala niente nessuno, quindi ha dei costi importanti e per le nostre città questo è un grosso business, perché questi useranno poi i nostri alberghi, se vogliono mangiare i nostri ristoranti, quindi è un business. Allora, quello che diceva prima il tuo ascoltatore è vero, la sanità soprattutto dice devo portarmi le lenzolle da casa, purtroppo in certe situazioni, in certe regioni sta succedendo questo, quindi una famiglia che deve pensare al suo futuro e non deve dipendere da decisioni terze, che è vero, la politica deve intervenire e risolvere questo problema, non a chiacchiere ma facendo qualcosa e copiando da quelli che fanno meglio, perché non è possibile che non possiamo dare un servizio anche in Sicilia, bellissimo turismo, bellissimo, bello, bello, poi li lasciamo soli e dopo ci lamentiamo che i giovani della Sicilia prendono appena possono e se ne vanno, perché effettivamente non hanno servizi, se io do dei servizi, infrastrutture, strade, ospedali, scuole, cavolo ho già fatto un budget dello Stato non indifferente, anche per la Sicilia, perché o ci salviamo tutti, cioè tutti, nord e sud, o non ci si salva mica, dal punto di vista economico, la borsa di Milano, raffrontata le altre borse internazionali, è una piccolo microscopico situazione, quindi l'Italia o si salva tutto dal punto di vista dell'economia o non ci si salva, quindi anche dal punto di vista sanitario, una famiglia, un nucleo familiare, un'impresa deve valutare anche il rischio, il rischio sì, valutare i rischi, i rischi di una famiglia e i rischi di un'impresa, anche dal punto di vista sanitario, se un padre di famiglia, monoreddito, che non fa una polizza dal punto di vista temporanea a caso morte, che tutti fanno gli scongiuri, io non morirò mai, ma se ti succede che tu abbandoni questi lidi e lasci qua la tua famiglia senza avere una copertura assicurativa, quindi lasciandogli dei soldi, nelle lacrime gli lasci dei soldi per poter fronteggiare questa disgrazia, sei una persona che non ha valutato un rischio reale, pensiamo di essere tutti immortali, pensiamo tutti di essere l'ender, questo è un piccolo esempio, in Francia chiedono la polizza, ti faccio un esempio, bambino va fuori con il cane, col guinzaglio, arriva uno, inciampa il nonnino, padaban cade, in Germania e in Francia partono le lettere avvocati, ti denunciano e ti chiedono i soldi, se tu non hai la polizza è obbligatoria, in Italia è obbligatoria la polizza RC, noi paghiamo la polizza dell'auto solo perché è obbligatoria, le polizze obbligatorie dovrebbero essere la temporanea a caso morte e la RC capofamiglia, cioè se cade un vaso dal secondo piano e mi frantuma la macchina sotto senza uccidere nessuno, io devo avere una copertura, se mio figlio fa male a qualcuno giocando a calcio e quello mi denuncia, perché dopo purtroppo arriviamo lì, arriviamo lì e mi devo vendere la casa per pagare la causa agli avvocati, non va bene. Come l'assicurazione sui cani, è un'altra assicurazione che è stata fatta. Bravo, però è lì che lo Stato deve intervenire, lì sì la politica può intervenire con defiscalizzazioni, se la fai, guarda che hai questo vantaggio, non solo delle piccole cose, allora uno comincia a rifletterci, è lì la politica che deve intervenire, è lì che deve dare e si dà una prospettiva futura anche su queste cose qua, non perché noi abbiamo le polizze, sì le vendo le polizze, certo è vero, le ho queste cose qui, ma guardandolo dal punto di vista un pochino più alto e di prospettiva del paese come educatore finanziario devo dirti che la politica deve intervenire in queste cose qua, non solo dopo. E su questo, tanto tu puoi stare con noi? Grazie, certo che posso stare con voi. Basta, allora saluto Facebook. Salutiamo Facebook, andiamo in pubblicità, un pizzico di musica così ci prendiamo un caffè, bene, ma subito dopo torniamo qui in diretta su RTV Network, a buona giornata, a tra poco. A tra poco. Siamo con Maurizio Poli, educatore finanziario al quale ho chiesto di trattenersi un po' di più per così possiamo andare avanti ad approfondire questo tema che secondo il mio punto di vista agli amici che ci seguono da casa sia che siano piccoli imprenditori piuttosto che lo vogliano diventare ma anche per le signore, i signori che abbiamo parlato di assicurazioni, di assicurazione sanitaria eccetera, quindi sono tutti argomenti che se ne parla poco e niente, quindi fare un po' di divulgazione finanziaria credo che sia importante. Tu stai facendo una cosa di educazione finanziaria meritoria Cristian perché andare a questo piccolo spazio dove non se ne parla proprio, in buona giornata penso che sia una bellissima cosa che fai anche di volontariato perché alla fine questa roba qui stai dando divulgazione economica molto importante per le famiglie e per le imprese. Complimenti Cristian. No, grazie a te. Dico solo, dico solo, due notizie poi torniamo. Vai, vai, vai. Allora, in apertura dell'ANSA c'è il Presidente del Consiglio Conte che sarà a Parigi perché Macron ha detto mai detto frasi offensive sull'Italia. Il suo portavoce sì però. però ecco va bene. E poi abbiamo questa nave che salva 41 migranti dalla Libia, recuperati 12 cadaveri e poi c'è quella famosa nave che piano piano ma molto piano perché va a quattro nodi sta andando verso Valencia. Ecco queste sono le notizie che ci sono in questo momento. rientriamo però parlando di economia e di cosa? Che riguarda anche l'economia aziendale tua. Allora, riguarda anche l'economia aziendale di tutte quelle società che fanno pubblicità. Quindi stiamo parlando di televisioni, parliamo di radio, parliamo di giornali, parliamo anche di quelle piccole società di pubblicità che hanno quest'anno una possibilità, un bonus fiscale passato dallo Stato, non dalla Regione. Certo. E di che cosa si tratta? Allora, mancano, come in Italia, mancano qualche giorno il decreto attuativo, si chiama bonus pubblicità, lo leggo qui, in gazzetta ufficiale sarà pubblicato a breve, in Italia. Quindi non è ancora attivo ma lo sarà a breve? No, nell'attesa è sempre il comunicato del 7 di giugno, quindi non è tantissimo. Sono sempre i famosi decreti attuativi che mancano. Io faccio la legge ma ci vuole il decreto attuativo, perché se no la legge è fatta ma se non c'è come viene attuato, la legge rimane morta dal punto di vista economico e finanziario. Questa domanda, l'agevolazione per investimenti incrementali in pubblicità, quindi per le micro e piccole aziende e grandi aziende. Allora, andiamo da un 75% fino a un massimo del 90%, che si può detrarre come credito d'imposta, quindi il prossimo anno dal modello F24, se io ho investito 10.000 euro in pubblicità, un euro in più di quello che ho investito l'anno precedente, sono una micro e piccola azienda, quindi posso arrivare fino al 90%, le altre aziende fino al 75%, che non è neanche poco, assolutamente no, perché vuol dire che se investissi 10.000 euro di pubblicità, l'anno successivo ho 7.500 euro di detrazione fiscale, quindi hai fatto una fotografia perfetta, quindi se non mi faccio vedere dal punto di vista cartaceo, online, tv o radio, io non esisto oggi come oggi, se non sono presenti in maniera, su un piano di comunicazione, tutto quello che vuoi Cristian, però come azienda non esisto, quindi è un ottimo volano per le aziende, ma anche chi opera nel tuo settore per poter dare spazio a tutti e poter andare non a costo zero, ma al 75-90%, insomma. Anche perché poi va ricordato che le televisioni, i giornali, non stiamo parlando di quelli nazionali, ma le nostre realtà stanno in piedi solo ed esclusivamente grazie alla pubblicità, perché aiuti dallo Stato arrivano quasi niente. Questo ha una cassetta di strumenti interessantissima. E questo invece diventa un mezzo attraverso il quale incentivare sia le aziende a fare pubblicità e quindi a far cercare di ripartire un'economia virtuosa. Dall'altra parte, tutte quelle piccole televisioni, che comunque è inutile che ci nascondiamo dentro un dito, la difficoltà, le difficoltà ci sono, perché la pubblicità ha avuto un grosso freno, non lo dico io, lo dice anche Mediaset per dire. Ma qui basta che tu superi l'1%, l'1% della pubblicità fatta l'anno precedente. Quindi 1% è veramente irrisorio come cosa e quindi aprono delle autostrade per chi può... Quindi per le medie aziende il 75% per le micro e piccole fino al 90%. Sul nostro sito www.more-solutions.it abbiamo pubblicato la notizia, anche sulle nostre pagine Maurizio Poli, mi trovate su Facebook, sulle varie pagine, Your Solution, More Solution, c'è questo decreto, andate a leggerlo. È interessante per le imprese, è interessante per chi opera nel campo della comunicazione poter proporre un'offerta coordinata per le aziende e dire benissimo, guarda, mi sostieni il mio progetto, la mia trasmissione, benissimo, guarda. Il prossimo anno porti in detrazione il 75% di quello che stai mettendo. Basta un 1% di quello che hai fatto l'anno scorso. Che è niente. Che è niente. Pronto? Sare Cristia, sono Carlo, buon dì, saluto Maurizio Poli. Carlo, buongiorno. Buongiorno, Carlo. Posso fare una domanda? Volentieri, Carlo. Dica. Cioè, questa iniziativa, mi sembra, è la classica iniziativa di quando un paese è alla canna del gas, giusto? Perché è fatta giustamente per affastare in piedi tutte le radio e le tv private, i quali voi siete giustamente una bellissima tv caro. Grazie, grazie. Però poi si scontra con una realtà ben precisa. Tu puoi fare pubblicità quanta ne vuoi e puoi scaricarla, è ovvio. Ma se poi, a fianco a questa, non ci sono la parte del consumatore, la parte, quella più importante che sarebbe i soldi per comprare qualcosa, siamo sempre a un cane che si morde la cosa. Qui ci mettiamo in testa che il consumatore è quello che poi fa mercato, che compra i prodotti e di conseguenza deve essere lui innanzitutto a poter essere incrementato da questo punto di vista. Perché sono tutte le belle iniziative, mi sembrano tutte iniziative che come buttate lì, come giustamente oggi si fa molta propaganda a livello politico e della propaganda poi restano le macerie da questo punto di vista, non ne usciamo più. Ecco perché va bene tutto, però poi non è che lo risolviamo se non diamo soldi in tasca a noi, poveri Cristi, di persone che siamo cartassati oltretutto e non ce la faremo lo stesso a comprare e quindi dopo avremo sempre questa situazione. Ciao Cristi, a grazie. Ciao, grazie Carlo. Allora. Carlo ci chiama D'Alecco. Salutiamo Carlo D'Alecco. La cassetta degli strumenti per le imprese, è vero quello che dice Carlo? Io come consumatore posso licenziare il presidente di una grande azienda. Come posso licenziarlo? Posso licenziare anche i dipendenti, semplicemente spendendo i miei soldi da un'altra parte e non andando a spendere in quell'azienda. Ma Carlo, se io non comunico come azienda, muoio e quanti dipendenti, quanti collaboratori lascio a casa, quante famiglie… nel ruolo importante della pubblicità, nel farsi conoscere. Bravo. Quindi anche che uno diceva le piccole realtà, le piccole radio, le tv, stanno in piedi, l'economia aziendale di una tv sta in piedi con la pubblicità. Se siamo qua… Escolivamente con quella. Con quella. Se non c'è pubblicità, non c'è informazione, tu i tuoi dibattiti politici non li fai, non paghi la luce, non paghi niente. La cosa simpaticamente non sta in piedi, quindi la pubblicità fatta col credito di imposta. È vero, ci lamentiamo sempre, usiamo questo strumento che c'è, usiamo questa cosa nel bene, non possiamo salvare il mondo, non possiamo essere… però questa cassetta degli strumenti come credito di imposta, vado a vederlo, more, tattino almeno solution.it, c'è il decreto, usatelo, usatelo imprese, usatelo, comunicate, ho fatto questo bellissimo oggetto, vendo questo salame, vendo questa macchina, vendo… io propongo se non propongo. È vero, dice, ci vogliono i soldi. Questo è un altro settore dell'economia che andrà sviluppato, ha ragione, ma in questo momento ci siamo focalizzati sulle aziende, sulle piccole aziende che devono farsi conoscere, che hanno l'opportunità, una bella trasmissione, non perché sono qua da te, ma anche di cultura, di informazione, appare uno spot di una bella realtà del territorio, perché no? Che porti in detrazione il 75% di quello che ho speso. Sostanzialmente l'azienda, cioè praticamente è un aiuto trasversale che arriva dallo Stato, che aiuta le piccole e medie aziende a farsi conoscere e in parallelo sostituisce quei soldi che lo Stato dava un tempo alle TV, alle radio per mantenersi. Quindi noi diamo delle notizie della cassetta degli strumenti, dopodiché vanno usati bene. Vanno usati in maniera giusta. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Maurizio, provincia di Lecco. Maurizio. Oh, Lecco è un perverso. No, è, lecco sbagliato. Volevo chiedere una cosa, questa lente che state parlando adesso è stata fatta già dal governo nuovo o dal governo vecchio? Viene dal governo precedente. Sì. Viene dal governo precedente. Ho capito, ho capito. Viene dal governo precedente. Sapevano che perdevano, hanno messo su questi soldi, era questo bel, un po' di daneda fa spendere al governo nuovo. Guardi... Perché queste cose qui vanno in detrazione per l'anno prossimo. Cioè io prima facevo 100 milioni di euro di fatturato, quest'anno ne faccio 120, eh, così diamo soldi ancora alle grandi industrie, perché già ne hanno mangiati pochi di soldi, no? Perché bisogna ricordare che, come dicevate prima, noi poveri cristi siamo senza soldi. Perché quando siamo passati nel 2003 da euro a lire, il nostro stipendio si è diventato, ma le grandi aziende hanno mangiato, ci sono fatti soldi avvalate, perché non hanno doppiato i prezzi. Sì, voglio dire un'altra cosa per quanto riguarda prima la salute, no? Sì, sì. Si continua a dire che la siringa di Lombardia porta 10 e in Sicilia porta 200, ok? Sì, sì. Però dovevo ricordarci che in Lombardia, che siamo la migliore sanità del mondo, per carità di Dio, se ce ne guardi Dio da avere la sanità della Lombardia, perché io ho avuto bisogno e mi lascia perdere tutti gli scandali che sono venuti fuori. perché se il signor Formigoni è stato indagato e roba varia, si è andato a fare le vacanze, perché Lombardia ha fatto pagare 10 la siringa e poi l'ha già fatta pagare 200 la Sicilia. E poi vorrei ricordare due cose, che l'Italia è un paese capitalista, non è comunista. Perché qua tutti i grandi imprenditori, gli imprenditori vogliono che lo Stato aiuti, ma non siamo il comunismo qua, qua siamo sul capitalismo, ok? Le aziende, uno fa l'imprenditore perché c'è una sua vocazione per fare l'imprenditore, ok? Come il parroco fa il parroco perché c'era una cosa. Torniamo agli imprenditori di una volta, non c'è sti quattro, ci sono adesso, ci sono solo gente che fanno affari con lo Stato. Vorrei fare solo un esempio, la signora Marcegaglia, ex Presidente di Compiindustria, si è fatta costruire a Sesto San Giovanni la fabbrica nuova nell'est posto dove c'era la Falca e la Breda. Da un punto di anni ha chiuso. Adesso la signora Marcegaglia è una di quelle persone che non ha dato soldi alla Barca e Trui, le ha chiesti e non le ha restiturite. E cosa fa adesso la signora Bella? ha una catena di hotel. Io vorrei sapere se in un paese civile, moderno, si possono fare queste cose. E vorrei ricordare l'ultima cosa, l'America, ok? Io odio l'America, però voglio dire che in America tu puoi ammazzare 200 persone e vai in galera così tranquillamente. Se però rubi un solo dollaro allo Stato, vai in galera e non esci più. Buongiorno. Ciao, grazie Maurizio. Ciao, grazie. Allora, tornando noi alle piccole e medie aziende, lasciando stare le grandi, questa legge è fatta per le piccole. Io guardo la realtà di adesso. Non mi interessa il colore che c'era prima. Questi sono su da tre giorni, come fanno a fare una legge? Non possono. Non possono. Ne vediamo la legge. Io vedo il lato buono. E l'aspetto, se vogliamo, positivo della legge. A livello economico. Poi lui dice, chi paga questo sussidio che lo Stato dà? Probabilmente l'economia virtuosa. Bravo, perché se le attività lavorano di più, pagheranno più tasse. Pago più tasse, assumo più persone, do lavoro a più persone. Quindi è un piccolo volano positivo, secondo me. Anche perché noi dobbiamo sempre ricordarci che abbiamo un mercato interno che è fermo. Asfittico. Abbiamo le assunzioni che sono ferme. Fermi. Quindi questo può essere un mezzo. Uno dei propri. Non è la soluzione dell'Italia, ma un mezzo attraverso il quale poterle far ripartire l'economia di quei negozi. Anche locale, anche locale, qui. E anche delle televisioni, perché guardate che dietro televisioni, radio, eccetera, vi lavorano tante persone. Ma va? E quindi, e c'è un indotto importante, se andiamo a chiudere, come se ne stanno chiudendo tantissime, sono tutti posti di lavoro che vanno a perdersi. e torniamo al discorso di prima delle persone che se ne vanno a perdere. E anche informazione che non c'è. Libera. 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 Guarda te, hai ospitato tutti. Tutti. Dal punto di vista politico, dando la parola a tutti. A tutti. Trovami in un altro posto che uno possa esprimere le sue idee. Che io mi piacciono o no, qui c'era uno spazio per poterlo fare. E quindi dopo andava in tv, andava sui social, andava in rete. Esatto, inizia a andare in rete. E andava in rete e quindi uno si faceva la sua opinione personale. Quindi, tornando dal punto di vista economico, da un'informazione, a volte le attività imprenditoriali vanno bene e vanno male. Tornando alla signora Marcegaglia, la famiglia Marcegaglia viene da una storia, soprattutto lei, di attività di hotellerie. Le aveva già. A Venezia, giù, eccetera. Asso, penso che abbia solo espanso quello che avevano già. Qua un po' non entro nel merito della cosa. Ma questa legge non è fatta per le aziende che fatturano 100 milioni di euro. Non gli interessa il credito d'imposta da questo punto di vista. Le medio-piccole devono sfruttarlo. Le aziende che sono qua, medio-piccole, intendo anche quella che fattura 20 milioni di euro, 30 milioni di euro. Che se esco da quella porta, c'è pieno la provincia di Brescia di aziende che fatturano questo e che devono comunicare qualche cosa. Che devono dire guarda che ho fatto questo vestito e ho fatto questa cosa. Anche perché in questa crisi che è durata più di quella del 29 ovviamente tante attività hanno chiuso ma tante ovviamente hanno tagliato sulle cose che venivano definite superflue. Bravo. Prima tra tutte la pubblicità. E chi dice, c'è un grandissimo economista che dice che chi non fa pubblicità è destinato a distinguersi. Chi non comunica non esiste. Non esiste. Quindi nel piano di comunicazione la regia c'è. Grazie, grazie a voi. La regia c'è, sì. Sì, sono in due. Sono in due. Sì, sì, sì. Ah, mamma mia. Quando dico lo slogan guarda. Oh, chi vedo là? Guarda chi vedo. Oh, mamma mia. Attenzione, attenzione. Perché chi non comunica non esiste. Basta. Basta, la regia è sul pezzo. Fatto questo. Possiamo andare oltre. Abbiamo parlato del credito imposta. Questo è un aspetto molto importante che dobbiamo analizzare. Ma torniamo ad esempio quello che è successo alla tua tv poteva succedere in un'altra maniera. Cioè è entrato il fulmine e ha bruciato a Celsereno a Celsereno bam è entrato il fulmine e c'è stato temporale che il nostro signore la manda è stato temporale. Ma poteva succedere che tu arrivavi qua e ti era entrato un virus e ti avevano sequestrato tutto e l'azienda nel nostro archivio dicevano benissimo adesso mi dai questi soldi se no io li pubblico tutti questi dati sensibili oppure tu non ti dò più niente. si chiama cyber crime attacco cyber adesso tutte le aziende molte aziende qua del territorio tantissime hanno investito nella cosiddetta industria 4.0 cioè tutto automatizzato IT si chiama internet of things molto l'internet delle cose le macchine che si imparano tra di loro che imparano facendo tutto in rete immaginatevi un'azienda che ha investito in queste cose qui l'hacker di turno gli sequestra l'azienda gliela blocca il robot si ferma così il braccio non va più l'azienda è ferma il braccio non va più né su né giù tutto fermo quindi l'azienda cosa perde al giorno cosa succede panico totale nelle prime 12-24 ore tu non puoi pagare il rischiato perché c'è l'aspetto penale sei completamente bloccato è vero dici Maurizio adesso ci parlerai di una polizza sì ma ti parlo di una soluzione che gli americani sono avanti e ti mettono a disposizione un team anche perché il principio è rubare le idee virtuose bravo che poi alcune verranno negli Stati Uniti altri possono venire dalla Cina bravo noi andiamo a prendere il meglio che c'è in giro speriamo di andare a prendere il meglio che c'è in giro bravo questa polizza qui degli americani dice io ti copro soprattutto anche torno le grandi aziende ce l'hanno già fatte le grandi aziende immagini aziende enormi che fatturano scusate mi viene da sorridere perché vedo vedi lanza flash accidenti dice istat stipendi di Milano 2,5 volte quelli di Vivo Valencia in Calabria ho capito però ho capito però il costo della vita a Milano sarà anche tre volte superiore quattro a Vivo Valencia se noi vediamo il caffè cosa costa Milano cosa costa Vivo Valencia mi sembrava una notizia oggi non ci sono notizie aggiornamenti a breve me li immagino scusami è giusto che sia così una trasmissione di informazione deve dare anche queste cose qua è rosso questo bene tornando alla polizza cyber gli americani dicono per le piccole e medie aziende chi fattura da 100 mila a 10 milioni di euro sai quante ce ne sono qua fuori che non hanno una figura interna dell'IT manager cioè responsabile tecnologico e non ci pensano tu pensano a uno studio avvocati uno studio di commercialisti che li sequestrano tutto e dicono bene adesso se non paghi io divulgo tutti i dati sensibili di Christian che quello poi mi fa dal punto di vista penale e civile una causa che non finisce più un paioolo tanto ecco un paioolo tanto come posso proteggermi cosa devo fare io sono completamente cieco e sordo la mia azienda è ferma il mio studio è fermo e c'è il computer con un orologio che va e dice se non paghi in bitcoin tanto per tornare oh Christian si è illuminato la criptovaluta la criptovaluta se non mi paghi non esisti non ti sblocco niente allora la compagnia sicurativa ti mette a disposizione un reputation manager cioè la reputazione che tu vai a perdere come mitigare questo aspetto un IT manager uno che ti risolve il problema tecnico e la possibilità magari di poter pagare loro per conto tuo risolvendoti il discorso dell'autodenuncia il penale e quant'altro per rimettere e ripristinare l'azienda tu pensa un'azienda che vende online se sta ferma 24 ore sono dei colossi tipo Amazon no ma loro sono strutturati io parlo sempre uno più piccolo dove viviamo le piccole quindi può essere il singolo negozio che ha il suo sito internet bloccato e vende online e quel prodotto li andava cosa succede? perdite economiche perdite economiche reputazione in internet completamente quindi prodotto che potrebbe se fosse ci vuole uno che ti ricostruisca un'immagine in internet ti ricostruisca un'immagine sui social certo che ti viene messo a disposizione e tu non paghi questo aspetto qui è molto importante andiamo verso l'idea nera della tecnologia dell'informatica eccetera ma se non prevedo questo rischio e non lo metto in campo piccolo o grande azienda che sia non lo calcolo questo è un altro rischio che mi può bloccare dal punto di vista economico quindi anche il cyber crime che noi vediamo solo nei film eccetera ma purtroppo se noi facciamo un piccolo sondaggio sulle aziende del territorio sai quante sono state soggetti di attacchi per un errore umano perché di solito diciamo ma io c'ho il firewall c'ho qui c'ho qua c'ho le difese basta che uno apra una mail che arriva da Cristian che è il mio capo e io la apro ma purtroppo la mail era falsa e c'era un virus e apro un allegato che mi dice Maurizio fai questa cosa qui e entro stasera cavolo mi ha detto Cristian è il mio capo devo fare la apro immediatamente l'allegato e lì il virus si possesse di me un altro arriva con una chiavetta perché deve scaricare il filmetto per i figli eccetera mette questa chiavetta metto così il filmetto non è tanto bello è vero rifaccio cancella questa regia questo cartone animato filmetto un attimo che uno possa capire male ecco il cartone animato per i figli va meglio questo l'abbiamo cancellato quello di ovvio la regia l'ha cancellato tutto registrato stiamo parlando io e te non ci segue nessuno telefonate per piacere fateci sapere che siete vivi dicendo chiavetta virus e questo qui cova lì per magari per settimane poi all'improvviso mi esplode e mi sequestra l'azienda quindi è un rischio reale tangibile in nera tecnologica da coprire soprattutto io insisto per le piccole e medie imprese bene caro Maurizio io ti ringrazio prima di tutto per essere stato con noi dai tuoi contatti perché sei meritato dopo un'ora e mezza che hai parlato di tutto grazie almeno i contatti diamoli dopo ti abbraccio fortemente i nostri contatti Maurizio Poli ma ci bacciamo anche sì sì ah però prego prego offline offline prego 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 vedi come si vuole Maurizio Poli cercatemi sui social su facebook su linkedin 0372 24 05 una mia mail m.poli chiocciola your trattino almeno solution.it e qui Cristian mi dirà www.mauriziopoli.it www.mauriziopoli.it di un egocentrismo megalomene megalomene mauriziopoli.it più di lui non esiste però se non comunichi non esisti non esiste perché rimane subito impresso www.mauriziopoli.it un po' come www.mi piaci tu.com bravo mi piace le porte sono aperte le porte sono aperte le comunicazioni di servizio come fossimo su un aereo la regia baciamo anche la regia grazie di cuore Maurizio grazie a te Cristian è sempre un piacere poter parlare con te e soprattutto quest'oggi abbiamo dato tanti messaggi tanti messaggi importanti noi adesso andiamo in pubblicità musica e poi ci avete richiesto in tanti il servizio della polizia locale quindi vediamo il servizio della polizia locale e poi torneremo a salutarci a tra poco a tra poco